Maxi sequestro di droga al porto di Gioia Tauro, a condurre l'operazione odierna coordinata dalla DDA di Reggio, unitamente alla procura di Palmi, i finanziari del GOA del Nucleo di Polizia Tributale di Reggio, quelli del gruppo di Gioia e i funzionali dell'Agenzia delle Dogane, Ufficio Centrale Antifrode e Svad di Gioia, in collaborazione con la Direzione Centrale Servizi Antidroga, operazione che ha portato a individuare un carico di cocaina di 297 kg, di elevata qualità e purezza, una volta introdotta sul mercato avrebbe fruttato con la vendita all'ingrosso circa 11 milioni di euro, valore che dopo essere stata opportunamente tagliata sarebbe aumentato di 3-4 volte, superando nella vendita al dettaglio i 60 milioni di euro. Un grammo medio di coca pronta all'uso può costare anche più di 50 euro. La droga era divisa in 267 panetti, del peso di un chilo circa, che erano conservati in 9 borsoni neri e nascosti all'interno di 3 differenti containers sbarcati dalla nave mercantile MSC Pollin, proveniente da vari porti del Sud America. I containers trasportavano scarte di alluminio, prodotti alimentari e legumi, ed è stata proprio la comparazione fra i documenti dueganali e le caratteristiche del carico ad insospettire gli investigatori, essendo questo destinato da aziende del Nord che non trattano questo tipo di prodotti. Funzionali della duegana di gioia e finanzieri hanno così ispezionato i containers, rinverendo il carico di stupefacenti diretto con tutta probabilità al mercato dell'Italia del Nord. Dall'inizio dell'anno, le attività di controllo eseguite dalla polizia giudiziaria sulle merci in transito dal porto gioiese, fra incroci documentali e controlli anche con l'ausilio di scanner, hanno portato al sequestro di oltre 673 kg di cocaina, che uniti alla tonnellata sequestrata lo scorso anno, confermano un ruolo centrale giocato dal porto calabrese nelle rotte dei traffici illeciti di droga provenienti dall'America del Sud e diretti verso Italia ed Europa.